Non a caso, abbiamo sviluppato sedi storici attorno al Natale, sedi dialogico-biblici, sedi poetici, in lingua italiana o anche dialetto, se ricordate. Quest'anno abbiamo concordato, sì, vi dico concordato perché ci siamo incontrati la prima volta due mesi fa, per dire il lavorio che ci sta dietro alla preparazione di questi concerti. Abbiamo concordato di prendere uno spunto da una lettera a uno dei nostri quotidiani locali. Un certo signore ha dato firma piuttosto strana, che non ricordo come si firmi, e scrive parlando del Natale, augurando per Natale tutti i trentini, e titola il suo intervento scritto così, caro Gesù bambino, da una mano al nostro trentino. Va mica in riva per caso, da una mano al nostro trentino. Saranno le voci dei più giovanissimi che commenteranno i brani, non tanto il contenuto del brano, perché lo capirete anche voi, ma... Grazie. 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 Grazie ancora al fuori . Grazie. di Gesù. Un applauso di corazzamento, mi sembra. Caro Gesù bambino, continua ancora la lettera di Natale. Aiutaci a vivere questa stagione nella quale non conosciamo più emigrazione, ma immigrazione. Siamo tutti, ma questa è la vita che ci siamo dato. A voi il coro numerica la vita. Grazie a tutti. 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 e quello di Dio sono un'unità per cantare insieme. Con la gestione del maestro che mostra il dado, il dado, tenteranno per noi gloria a Dio, seguirà oggi Cristo è nato, e vieni signori. Caro tuo famiglio, donati pazze e concoria, e degli amministratori onesti, capaci ed ingineranti, che possano comprendere i risori della gente ed inserire dei meno protetti che tutelano. A voi Nicoli Scalabino e Radino. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione